Questa relazione applicata ad una mole di gas nelle condizioni standard assume un valore ben definito che è 0,082 atmosfere per litro per k alla meno 1. Il numero di Avogadro appunto che è pari a 6,02 per 10 alla 23. In questo modo potremo disporre una relazione che tiene conto anche del numero di molli dei gas. Questa relazione, per così dire universale, viene chiamata equazione di stato dei gas.